ragazzi oggi ho l'onore di avere qua sul mio canale neschio che era da un po che non veniva portato era un sacco che avevo voglia di riportarlo qua con noi e finalmente ce l'abbiamo fatto quindi bentornato un abbraccio a tutti ma non dire onore perché mi fai sentire fuori come si dice io voglio sentirmi a mio agio con te ci vediamo ci sentiamo da una vita quale onore dai allora sono felice diciamo così sono felice di essere riuscito a riportare neschio stai bene sto bene mamma mia quanto so bacchettone perdonami tu tu è insomma un po acciaccato sono stato meglio in altri momenti della mia vita ma ce lo facciamo andare bene non sto bene né a livello fisico né a livello di juventus siamo malati entrambi in questo momento alla grande alla grande neschio parliamo proprio di questa cosa qua dato che so che te comunque sul tuo canale la juventus la tratti spesso e anche in maniera che mi piace molto in maniera molto sportiva questa juve a chi si deve aggrappare in questo momento quali sono i giocatori che hai visto migliori e sui quali far affidamento per il futuro per me è uno dei giocatori lo era già in passato figuriamoci adesso che diciamo è andato via è andato via cd7 per me il giocatore clou chiamalo come ti pare della juventus e paolo di bala sarà che forse so anche di parte perché sapete io stravedo per il giocatore ma adesso più che mai un 10 come paolo di bala che che appunto la magia le giocate secondo me è un giocatore fondamentale per per questa juventus non è l'unico ma si parte da lui secondo me quindi primo della classe paolo di bala per me sì per me il numero 10 è lui e non è il numero 10 10 è proprio il giocatore appunto che che può fare quello che deve fare in questa juventus per avere qualcosina in più no poi ovvio che un giorno un solo giocatore non è che faccia faccia la differenza questo rinnovo di contratto di di bala arriva o non arriva secondo te ecco su queste cose io veramente ne so meno di zero perché sono cose che ovviamente sapete meglio di noi è a livello societario è un casino proprio un'opinione un'opinione nel senso te lo vedi ancora la juve perché sia la juve che di bala voglia rimanere o pensi che ci possa essere una sorpresa sembra tutto fatto ma no io penso che non ci sia nessuna sorpresa come detto tu si va in direttura d'arrivo perché ovviamente adesso più che mai lui credo si senta stesso lui stesso il simbolo magari della juventus no quel giocatore a cui la juventus magari si aggrapperà in futuro si vede più primario e quindi credo che se sarà adeguato il 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 compenso economico non non ci vedo non ci vedo dubbi non ci vedo dubbi secondo della classe invece è ovviamente chiesa chiesa è un altro giocatore incredibile veramente che ha degli strappi paurosi è un giocatore che poi anche già dall'anno scorso l'abbiamo visto compirlo quest'anno forse meno meno bene non lo so questo mi dirai tu stesso ma forse meno costante proprio per l'impiego di di allegri però un altro giocatore di quelle che determinano che determinano a me chiesa quest'anno sembra più impreciso più che meno bene mi è sembrato sempre più freddo l'anno scorso o più capace di di essere davvero decisivo negli ultimi metri in questo momento mi sembra ancora un pelo indietro sono sicuro che ci arriverà perché chiesa vabbè sono innamorato di di chiesa io addirittura inizialmente lo mettevo davanti di bala per importanza di questa juve poi di bala veramente ha ripreso in mano quello che aveva lasciato qualche anno fa e adesso è davvero come dici benissimo l'insostituibile di questa juve il giocatore che cambia il volto a questa juve è quello è quella fantasia per uscire un po dalla monotonia da rimanere quadrati no di bala è quella luce che che te la risolve no no ma io più che altro parlavo di di caratteristiche quindi vedo vedo di bala come uomo chiave proprio in un tipo di giocatore che alla juventus serve bisogna aggrapparsi a lui per far nascere magari le geometrie di di gioco ma a livello di rendimento e altro per quello che abbiamo visto l'anno scorso in effetti chiesa come dici te veniva prima di tutto e chiesa del rendimento pazzesco l'anno scorso e anche quest'anno forse un pochettino indietro perché si gioca si gioca praticamente sempre non si è mai riposato e compagnia cantante ma è un altro di quei giocatori che sicuramente siamo lì il livello è quello è il livello è alto guarda è bello perché stiamo andando a braccio non ci siamo preparati nessuna scaletta vi tirato fuori tutti gli argomenti e quindi mi hai servito su un piatto d'argento la prossima domanda mi hai fatto due nomi di bala e chiesa di bala e chiesa però ad oggi sembrano un po di difficile incastro a livello proprio tattico nella juventus anche allegri stesso forse è un pelo indietro sotto questo punto di vista non ancora ben chiaro come sfruttare al meglio le caratteristiche appunto di questi giocatori secondo te qual è il modo ideale per farli coesistere a me a me piaceva l'utilizzo per quanto riguarda chiesa l'utilizzo di pirlo pirlo lo buttava a tutta fascia se non vado se non vado errato no sì allora pirlo diciamo che inizio anno impostava tre e difendeva quattro chiesa stava largo sulla sinistra dalla sua parte aveva molto spesso ronaldo che partiva da quella posizione quindi diciamo che scambiava molto molto spesso con cristiano e quindi veniva lanciato anche per quello guarda io ti dico la verità io penso che i giocatori di classe i giocatori di qualità poi lì davanti non è che abbiano bisogno di chissà quali dettami tattici in questo io sono molto d'accordo con allegri che viene anche molto criticato forse proprio per questo proprio perché ritiene molto semplici alcune situazioni e io credo che veramente possano possono giocare io io penso che forse manchi un altro tipo di giocatore alla juventus cioè quei due li ha chiesa di bala vanno bene secondo me manca l'altro manca quell'altra l'altra punta una punta che su cui magari appoggiarsi su cui lo stesso di bala può roteare secondo me manca quella e che andrebbe a esaltare ancora di più di bala stesso e chiesa perché no guarda io sono molto d'accordo è un po che vado a insistere su questo punto di bala gioca bene con una punta chiesa gioca bene con una punta forse morata in questo momento il giocatore un po più in ritardo di condizioni di tutti non solo a livello fisico forse anche a livello psicologico sta subendo un po tanto anche le ire dei tifosi e questo è un dato di fatto quindi te ti immagini un tridente quindi composto da questi tre giocatori o di bala la punta e chiesa appunto a tutta fascia un po come come sta giocando adesso cioè nel senso ti immagini parliamo di numeri un 433 con quei tre davanti o un 442 con chiesa che che va e torna ad oggi io preferirei più un 442 con chiesa che va avanti e torna che viene sfruttato un po come un po come l'anno scorso la juventus deve essere secondo me un po più spregiudicata non secondo me non è un caso che è una delle gare migliori più belle più spumeggianti della juve sia stata qualche qualche settimana fa con lo zenith se non vado errato dove i due dove i due esterni uno era bernardeschi e l'altro chiesa stesso se non vado se non vado se non vado con di bala e morata lì davanti perché no io vedrei benissimo un chiesa da una parte un o un bernardeschi dall'altro oppure quadrato stesso che che è un altro di quelli che non abbiamo menzionato ma che sicuramente non non è dietro a questo perché anche quadrato se in forma ragazzi miei è un ira è un ira di dio quindi a me piacerebbe il 442 chiesa sul suo esterno e di bala lì davanti con un morata che al momento sì come detto tu fa fa molta fatica e forse forse lì è il giocatore che in questo momento sta mancando la juve hai toccato un punto interessante perché mi hai detto forse bisogna essere un po più coraggiosi un po più spregiudicati e in queste prime partite abbiamo visto che lì a sinistra dove l'anno scorso chiesa mi ha fatto benissimo invece è quasi sempre preferito rabbio che cosa si nasconde dentro questa scelta di rabbio in quella posizione quanto più per la copertura perché poi fase l'impostazione fa un altro ruolo però in fase di non possesso rabbio è largo a sinistra per difendere col 442 sì è uno di quei ti dico la verità quando guardo la juve perché poi come tu già espresso io di settimana in settimana guardo quasi tutte le partite la juventus ovviamente tra le biche quindi non mi sfugge quasi nulla l'unico interrogativo che non riesco a risolvere proprio quello quello di vedere spesso e volentieri esterno a sinistra rabbio in una delle due fasi ovviamente e forse per per quell'equilibrio che ancora sta cercando allegri forse perché ancora non si sente sicuro sappiamo che per allegri la prima cosa è non prendere gol dopo dopo che ha una certa sicurezza magari può può anche pensare a fargli gol perché tanto dice con quello che mi ritrovo un gol lo faccio sicuro l'importante è non prenderli forse al momento la copertina la coperta si sta dimostrando corta io diciamo che che comunque non è neanche vero che adesso non prendiamo gol purtroppo cioè nel senso non ne facciamo tanti ma e ne prendiamo tanti quindi però per un lasso di tempo era riuscito a essere più no ci sono state quei tre quattro partite dove dove si subiva praticamente nulla cioè uno a zero uno a zero uno a zero e via secondo me deve ancora trovare quell'equilibrio ma io confido sempre nel fatto che ahimè confido che che allegri nel 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 proseguo nel percorso lavorando ritrovi quel quel equilibrio perché poi come dici tu secondo me è anche una questione psicologica cioè la juventus si deve innanzitutto resettare con quella che era un tempo perché se non fa quello poi alla fine ti ritrovi ti ritrovi in difficoltà bisogna capire che la juventus in questo momento non è più quella squadra che anno dopo anno vince sicuramente lo scudetto non è più quella juve si deve ripartire da questo no da questo input mentale resettare tutto ritrovare forse il lavoro e forse si trova anche più più equilibrio diciamo che al momento equilibrio e forza e forse anche qualcosina in più sotto il lato offensivo lo stavano un giocatore che è entrato nelle rotazioni diventato un titolare proprio nelle ultime partite che è mccanny cosa ne pensi di questo giocatore sì 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 l'ho visto anch'io cioè l'ho visto anch'io chi guarda le partite palese era palese sì sì è un giocatore che fa fa bene le due fasi ma attenzione il primo mccanny visto l'eventus era sicuramente un giocatore che prometteva molto molto bene sì proprio perché per caratteristiche uno di quei giocatori che in qualsiasi squadra serve cioè bravo nell'inserirsi senza palla non è un caso che nelle ultime partite tra i più pericolosi proprio perché lo trovi sempre spesso in aria va a concludere ti dà equilibrio è uno di quei giocatori secondo me che infatti piace piace tanto da allegri ed è uno di quelli che adesso in mezzo al campo ovviamente non non possono e non devono mancare consigli per gli acquisti tu ora sei un po come conte come marotta sei hai cambiato sponda sei andato dall'altra parte devi ricostruire la juventus si è invertito proprio il mondo chi compri per questa juve quali sono i ruoli e magari anche i nomi che faresti proprio per per migliorare la situazione sì il primo come abbiamo detto prima l'attaccante cioè l'attaccante secondo me è fondamentale se proprio vuoi un nome so che in molti forse non piace ma credo che i cardi in questa juventus per caratteristiche messo lì davanti come punto da affiancare a dibala potrebbe fare bene potrebbe fare bene se non i cardi un giocatore comunque con quelle caratteristiche là quindi un finalizzatore sì assolutamente un finalizzatore un giocatore sì no scusa scusa vai finisci finisci perdonami no un giocatore comunque con con struttura che appunto magari lui non ha quella qualità di farti salire la squadra ma secondo me è migliorato anche da quel punto di vista fatto sta un uomo d'aria come i cardi secondo me serve la juventus ma i cardi lo prenderesti anche oggi con tutti i problemi personali che lo stanno attanagliando pensi che lo possano distrarre pensi che possa essere un modo per dare qualcosa in più per dimostrare no al di là di questo io lo prenderei cioè lui e la moglie hanno sempre portato problemi all'inter sì però in campo alla fine quando ci ha voluto quando ci ha voluto andare in campo ha fatto ha fatto comunque bene perché dal punto di vista delle qualità dei giocatori secondo me non si discutono ha delle caratteristiche che possono piacere o non piacere ad alcuni tifosi ma di sicuro in quello che in quello che è bravo è bravo c'è c'è poco da dire secondo me è un giocatore importante che che alla juventus potrebbe fare bene e lì in mezzo invece qual è il nome ma lì in mezzo secondo me la juventus già quello già tanto a disposizione cioè i giocatori li ha ha un Arthur che cioè se tu dici no ma ci serve il giocatore che è bravo a palleggiare e ce l'hai cioè se ti serve quello ce l'hai perché secondo me come Arthur ce ne sono pochi in quello a Locatelli a McKennie a giocatore a incontristi come era più a Bentancur cioè secondo me a giocatori variegati per cui già ce l'ha al massimo lì dietro forse un terzino sinistro io non so cosa cosa stia mancando ad Alexandro che mi sembra irriconoscibile rispetto a quello di un tempo forse però guarda l'unico ruolo proprio prioritario io mi focalizzerei veramente solo soltanto sulla sulla punta anche perché Morata attenzione magari in difficoltà come hai detto tu anche mentale come giusto che sia però è un giocatore operario non è comunque un giocatore operario non è comunque un giocatore che ha caratteristiche no prettamente strutturali quindi io punterei sulla sulla punta domanda finale poi ti libero fammi il tuo tra virgolette pronostico con l'acquisto di cardi e senza l'acquisto di cardi dove può arrivare questa juve in campionato però non mi hai detto nulla non mi anticipato nulla facciamo almeno anticipo qualche domanda niente ma io non lo sapeva che l'hai costruita te io cioè io ti ho fatto una domanda iniziale poi tu hai costruito il resto cioè io come potevo anticiparti io stesso bravo tu che cogli la palla al balzo allora bravo anche tu beh una juve con i cardi sicuramente vedo la juve in champions tra le prime quattro che l'obiettivo adesso stagionale secondo me per la juventus quasi quasi non dico impossibile perché poi abbiamo visto che nel calcio nulla lo è ma veramente difficile recuperare così tanti punti per lo scudetto io credo che l'obiettivo al momento sia quello quello di entrare tra i primi quattro e con i cardi lo scudetto sono 14 punti la champions sono 4 questo già dovrebbe darti l'idea di qual è l'obiettivo sì 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 però con i cardi vedo una qualificazione facile per per la champions una qualificazione veramente in scioltezza senza di lui con questa rosa disposizione c'è la possibilità di di arrivarsi perché se non se non c'è la possibilità per la juve è finito il mondo secondo me comunque attrezzata per per la qualificazione però se la rischia secondo me se la rischia come se come se l'è rischiata l'anno scorso però non è un controsenso provare a prendere i cardi in questo momento quando hai due come ken e cai org che sono tuoi di proprietà molto giovani e che sostanzialmente non è ancora visto quest'anno sì sicuramente io li proverei cioè io io il caio lo metterei più più spesso anche perché quelle poche volte che lo abbiamo visto sembra un giocatore di belle aspetti come si dice di bella aspettativa sì 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 quindi lo proverei un po di più che non so è molto molto altalenante come come giocatore diciamo che i cardi dalla sua ha uno status secondo me diverso è vero che poi se ne è andato la fa la panchina ha giocato poco però all'inter sappiamo che te hai detto bene te hai detto bene i cardi un finalizzatore i tre attaccanti della juve oggi nessuno dei tre un finalizzatore sono tre giocatori più di movimento più che di area tutti a tre quindi esattamente io come dicevo prima io credo che manchino proprio un po quelle caratteristiche un po quelle caratteristiche per far giovare per che siano da giovamento anche gli altri come dicevo di bala abbiamo detto chiesa ma lo stesso quadrato cioè se se i cardi riceve quei cross di quadrato al bacio che due su tre sono sulla testa e cioè le cose si fanno diverse dalla da non avere nulla in aria la butta dentro perché la juventus io mi sono accorto in alcune partite davvero mancavano uomini d'aria cioè la juventus aveva problemi proprio ad entrare in aria in alcune circostanze perché di bala viene basso piace giocare la palla piace venire dietro chiesa non è proprio un finalizzatore che cioè chiesa sa fare anche quello però attenzione chiesa non è quello e quindi manca manca secondo me proprio uno uno d'aria scusami infatti meno male no no ma giusto infatti ti dico meno male che si alza meccenni alcune volte perché bravo cioè meccenni paradossalmente esattamente quello che è uno dei quelli che porta più pericoli al pari di altri giocatori ma non può essere l'unico ovvio benissimo neschio io direi che tutto quello che mi è venuto in mente te l'ho chiesto potremmo stare qua altre ore a parlare di calcio ma cerchiamo di comprimere magari di fare altri contenuti prossimamente insieme io ti ringrazio invito i ragazzi anche a passare al tuo canale qui sotto in descrizione e a fare un salto anche da te vuoi dire qualcosa grazie mille grazie mille anche perché prossimamente a breve sul mio canale apparirai anche tu faremo un contenuto come questo diciamo dove andiamo a discutere di qualsiasi ambito che possa coinvolgere inter e juventus quindi quando vuoi ci sono perfetto perfetto mi ha fatto piacere ci siamo divertiti dai un abbraccione ciao ragazzi grazie mille un abbraccione ciao a tutti